È un Mikan che conferma la propria leadership nel settore fieristico internazionale per quanto riguarda la calzatura di fascia alta e medio alta. Una conferma che arriva sicuramente dai numeri. Sono ben 1303 le aziende totali che espongono le proprie collezioni primavera-estate 2020. Su una superficie di oltre 63.000 m2, 695 sono le aziende italiane, 608 le aziende internazionali che arrivano da oltre 30 paesi diversi. È un Mikan che punta sicuramente sul business, sulla qualità dei marchi presenti. Sono tantissimi i marchi che sono entrati nuovi a far parte anche in questa edizione, ma punta tanto anche sulla moda. Ci troviamo adesso in un'area per noi davvero molto importante, quella degli emerging designer. È un'area questa che testimonia la sensibilità di Mikan verso i talenti emergenti. Sappiamo bene che il nostro è un settore in cui la tradizione riveste un ruolo molto importante, ma anche l'innovazione in termini di stile, in termini di materiale, ha un ruolo davvero importantissimo. Per questo abbiamo deciso di creare all'interno del padiglione 4 quest'area dedicata proprio ai designer emergenti. Un progetto che in questa edizione abbiamo voluto ulteriormente ampliare, creando un abbinamento tra i 12 designer emergenti e 12 influencer. Per dare la possibilità ai designer di avere un'ulteriore cassa di risonanza su tutti i social network, visto che sappiamo molto bene quanto questa comunicazione sia importante. Un altro evento molto importante è quello proprio della sfilata dedicata agli emerging designer. Si è svolta proprio oggi, anticipata da un talk, Fashion Disruption, che ha proprio parlato del mondo degli influencer. Grazie a tutti.